Buonasera da Marco Capulli e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV, bloccato nuovamente il casello a uno di Bettolle, il secondo blocco di questo terzo giorno di protesta degli agricoltori della Val di Chiana è successo attorno alle ore 16 di questo pomeriggio, sono 130 circa i coltivatori che oggi hanno preso parte alla protesta organizzata da riscatto agricolo, già questa mattina attorno alle ore 12 gli agricoltori avevano bloccato il casello autostradale Val di Chiana a Bettolle, il traffico inevitabilmente è rimasto congestionato sino alla ripartenza dei mezzi agricoli, il presidio andrà avanti sino al prossimo sabato, attendiamo la convocazione del ministro Lollo Brigida, dichiara Salvatore Fais di riscatto agricolo, altrimenti lunedì entreremo in A1 verso Roma. I temi della protesta sono molteplici, dal no al cibo sintetico, all'abolizione degli incentivi per non coltivare i terreni, dal contenimento della fauna selvatica alla riprogrammazione del Green Deal. Due incidenti ci sono verificati oggi a Delezzo senza importanti conseguenze, il primo si è registrato alle 7 di questa mattina lungo la strada provinciale 1 Sette Ponti in prossimità dell'abitato di Quarata, qui per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine una vettura si è intraversata in mezzo alla carreggiata, l'episodio si è risolto poco dopo con la rimozione del veicolo, il secondo è venuto alle ore 14 e 30 in via Romana all'altezza del Bivio per Bagnaia, qui a scontrarsi sono stati più mezzi, in entrambi i casi si sono verificate code e rallentamenti. E cambiamo argomento, dopo il furto di 100 tablet alla scuola Margaritone De Rezzo, un ulteriore tentato furto, sono tornati dispositivi elettronici nella scuola di via Fiorentina grazie all'iniziativa e il contributo di genitori, cittadini e del Ministero. Cara Sadotti. Il messaggio che si deve mandare all'esterno è che la scuola va sempre avanti, a prescindere dalle contingenze politiche e contingenze momentane. Dopo il maxifurto era subito scattato una vera e propria gara di solidarietà, una rete fatta di genitori, imprenditori e cittadini e oggi sono 300 i tablet che sono stati riconsegnati agli studenti dell'Istituto Comprensivo Margaritone. È stata la solidarietà importantissima, anche il Ministero ha contribuito con un fondo PNNR, quindi per le classi 4.0 e siamo riusciti a riportare tutto all'ordine. Il furto lo scorso settembre, a poche ore dal suono della prima campanella. I ladri avevano fatto sparire il materiale elettronico, circa 100 tablet, per un valore di almeno 70.000 euro, colpo che aveva messo a rischio la didattica innovativa. Adesso finalmente può partire il progetto Classi Digitali. Voi ci faresti? Giochi matematici, perfetto, poi? Ovviamente non è sostitutiva della didattica, ci tengo a precisare. È un nuovo modo di fare didattica che si avvicina di più ai ragazzi, a questa società che è completamente diversa un po' dalla scuola che abbiamo fatto noi. Quindi è una strumentazione importantissima e poi anche un asilo importante per i ragazzini in difficoltà. Sempre nello stesso istituto, lo scorso ottobre una spaccata bis, per fortuna con i ladri scappati a mani vuote. A dicembre delle mire dei malviventi, i distributori automatici di merendine, completamente distrutti per essere scassinati. Quindi la richiesta di maggiore sicurezza ha portato all'attenzione del Comune di Arezzo. Il Comune risponderà con una messa in sicurezza di un'aula, non voglio dire dove. Un defibrillatore ad uso pediatrico è stato donato alla cittadinanza di Arezzo dai commercianti di Via Fiorentina. Un defibrillatore anche ad uso pediatrico è stato donato dai commercianti di Via Fiorentina alla cittadinanza. L'iniziativa è partita dall'idea di Simone Petrelli, titolare della cartolibreria Mille Idee, che poi assieme ai commercianti e ai cittadini che hanno donato è stata accolta da tutti, proprio per sostenere la spesa per l'acquisto del DAE. L'idea è nata poiché qui nei dintorni non sono presenti defibrillatori. Abbiamo aperto una raccolta fondi e con l'aiuto dei commercianti e di cittadini che volontariamente hanno depositato anche una piccola somma, ma giusto per contribuire, siamo riusciti a installare il defibrillatore. Ci sono commercianti della zona o cittadini che hanno fatto anche il corso per utilizzarlo? Allora alcuni di noi sono già formati per poterlo fare. Comunque adesso vediamo di organizzare un corso che coinvolga un po' tutti i commercianti principalmente perché sono quelli più presenti diciamo durante il giorno. Insomma niente, vedremo di organizzare un corso. Quindi di formare più persone possibili? Formare più persone possibili proprio per andare a salvare quante più vite possibili. Quando sarà utilizzato questo defibrillatore, posto che speriamo serva il meno possibile, l'azienda che ve lo ha venduto ne regalerà uno alla persona salvata? Sì, ne regalerà uno alla persona salvata che a sua volta potrà donare a chi vuole. Risolto il problema dello spostamento del mercato rionale di Saione che torna alla sua sede naturale nell'omonima piazza liberando così il parcheggio di via Rismondo fino all'inizio del cantiere che è previsto per il mese di marzo. Sentiamo. La questione del parcheggio nella zona di Saione, quindi mercato e poi parcheggio invece di via Rismondo è stata per il momento risolta? Sì, abbiamo risolto nel senso che abbiamo sollecitato l'amministrazione comunale a rispostare in assenza di un inizio lavoro effettivo a Saione, quindi con un cantiere ancora non avviato è stato ricollocato il mercato nella sua posizione originaria, quindi liberando il parcheggio di piazzetta Rismondo che è comunque un bel polmone per la sosta e per potersi fermare appunto a ridosso di via Vittorio Veneto. Questo è importante e quindi è un parcheggio che è tornato disponibile, utilizzabile e con il mercato rionale ricollocato su piazza Saione in attesa dell'inizio lavori. Ecco, posto che quando ci sono dei lavori che migliorano, insomma così almeno per quello che sostengono i tecnici e la situazione, ovviamente i disagi da sopportare ci sono. Ci sembra di capire, ma ce lo confermerà lei, insomma che è mancato però un po' di confronto. Sì, diciamo che il confronto c'è abbondante, devo dire, e di questo tra l'altro abbiamo sempre ringraziato anche l'assessore Casi perché effettivamente ci coinvolge sempre un po' su sua iniziativa, un po' su nostra iniziativa comunque c'è un dialogo frequente sul progetto, sul tipo di lavori, su, come dire, anche il conoscere e anche accogliere alcune richieste e variazioni per migliorare chiaramente anche dal punto di vista commerciale la situazione. Quello che ancora manca, devo dire, e anche questa è stata un po' una testimonianza, è poi una comunicazione tempestiva e efficace su quando poi si parte. Via Fiorentina si va verso gli 8 milioni di euro. Al di là di questo, che succederà ai commercianti? Qual è il termometro della situazione? Ma il termometro è che sono molto preoccupati, ma oltre che per la parte economica c'è una preoccupazione seria sulla durata e sull'impatto di questo cantiere che appunto ci auguriamo che sia gestito nel migliore dei modi, ma è evidente che per l'impatto enorme che ha sulla viabilità di questa zona e per quanto è importante e grosso l'intervento il rischio di disagi è alto e lo sanno che è comunque normale averli perché comunque quando ci sono lavori importanti i disagi ci saranno. Dovremmo presidiare e monitorare con veramente molta attenzione che siano ridotti veramente al minimo. È quasi pronta la rotatoria di via dei Carabinieri, via Salvemini e raccordo Battifolle A1, ma per renderla definitivamente fruibile ci saranno modifiche al transito dei veicoli. Da lunedì 5 febbraio infatti per almeno due settimane per chi proviene dal raccordo autostradale bisognerà utilizzare una nuova bretella. La rotatoria quindi potrà essere utilizzata solo da chi esce dalla città o da chi proviene dalla tangenziale urbana. Le verture che percorrono invece il raccordo Arezzo-Battifolle non potranno fruirne dovendo utilizzare una bretella nuova esterna sia per dirigersi verso il centro della città sia verso il Casentino. La situazione continuerà in questo modo per 15-20 giorni fino alla sistemazione definitiva e l'apertura della viabilità di progetto quando il binomio rotatoria e bretella sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia e non più alternativamente. Questa mattina il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, ha incontrato i genitori contrari al criterio dei nonni per l'accesso ai servizi per l'infanzia fuori da Palazzo Cavallo. Alcuni genitori e nonni hanno incontrato il vice sindaco. Domani il Consiglio Comunale nel poveriggio è chiamato a discutere l'eventuale approvazione del nuovo regolamento. Siamo usciti adesso da questo incontro con la vice sindaco Tanti e il risultato sostanzialmente è che il criterio dei nonni che era quello più discusso da tutti quanti in questi giorni ci ha confermato che è un criterio che resterà. Ci hanno provato genitori e nonni a far valere le proprie ragioni in merito al nuovo regolamento che determinerà le graduatorie per l'accesso ai servizi per l'infanzia nel comune di Arezzo nella fascia 06. A sollevare un vero e proprio vespaio è il cosiddetto criterio nonni. A me sembra una cosa assurda averlo solo pensato perché intanto l'aspetto dell'educazione dei bambini è importantissimo e i bambini devono stare insieme ai bambini anche se i nonni danno tanto affetto. Poi c'è da considerare che io sono una nonna che ha lavorato 40 anni, ha bisogno anche della sua libertà. Perché si va a scavare innanzitutto nella vita delle famiglie e quindi non si sanno spesso i rapporti che hanno i figli con i genitori, quindi che rapportano i nonni con i nipoti e i nonni poi magari vorrebbero anche godersi un attimino la pensione e non è semplice seguire dei bambini. Un tema pedagogico. Esatto, io tra l'altro sono qui sia come mamma che come futura educatrice perché studio scienze dell'educazione e della formazione e come futura professionista mi sento un po' svalutata sotto questo aspetto perché il valore che viene dato all'educazione qui si azzera un attimino, viene un po' messo da parte. Quello di questa mattina è stato un incontro aperto e leale, afferma la vice sindaca di Arezzo, Lucia Tanti, in una nota i rappresentanti di alcuni genitori contrari. A questo criterio hanno espresso apertamente i loro dubbi, contrapponendosi a quei genitori che ieri, in un incontro analogo, si sono invece detti favorevoli. Il testo arriverà al vaglio del Consiglio Comunale nelle prossime ore. Se gli emendamenti prosegue la Tanti di maggioranza e opposizione elaborati per perfezionare ulteriormente il testo del regolamento, ne manterranno l'impianto, saranno tutti accolti, così come ho preso personalmente gli appunti su alcune indicazioni arrivate sia ieri che oggi. La nonna e la nonna. Dentro le gradatori i bambini hanno diritto ad avere un punteggio come bambini, non certo come i nipoti. I servizi sociali ci si può basare sull'affettività delle famiglie. Sono irreverenti le persone che considerano i nonni non portatori di punteggio, considerando e dare un punteggio nominando i nonni vispi o non vispi. L'appello a questo punto ai consiglieri che domani si troveranno a votare su questa questione è quello di non farne una, diciamo così, battaglia ideologica, politica e demagogica perché si andrebbe a fare una battaglia di questo genere sulla pelle di bambini in una fascia d'età particolarmente delicata che invece hanno tutto il diritto di accedere ad un servizio pubblico propedeutico, ad un corretto avviamento a una formazione personale che è particolarmente delicata. I giornalisti sono le persone dell'incontro purché questo incontro rimanga umano. Queste le parole del Vescovo Andrea Migliavacca in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti che ha incontrato per la presentazione del calendario degli eventi legati alla festa della Madonna del Conforto del prossimo 15 febbraio della novena che la precede. Con l'occasione sulla scia delle ultime dichiarazioni del Pontifici abbiamo chiesto a Monsignore Andrea Migliavacca anche cosa pensa del ruolo dell'intelligenza artificiale. Greta Settimelli Uno dei temi che almeno a me ha particolarmente colpito è il ruolo dell'intelligenza artificiale, un tema toccato ovviamente dal Santo Padre. C'è una frase nel suo messaggio, nell'esortazione ovviamente a mantenere una comunicazione umanamente aderente alla persona, il giornalista sul campo. Sarà quello che farà la differenza, quindi l'incontro comunque con le storie che poi noi giornalisti dobbiamo raccontare. Sì, credo che il tema in questione sia quello della libertà, cioè potremmo dire la libertà di pensiero e la libertà poi di espressione, di comunicazione dei propri pensieri e la libertà richiede la persona e quindi ecco se da una parte lo sviluppo della tecnologia e l'intelligenza artificiale ci offre delle opportunità grandiose, un tempo impensabili e che devono diventare patrimonio utilizzato da noi per uno sviluppo positivo, per il bene. Dall'altra parte occorre vigilare perché questo sviluppo non metta da parte l'uomo. Il Papa ricorda, diciamo, non lasciamoci dominare dagli algoritmi, ma dobbiamo realizzare, vivere il nostro essere persone in relazione con gli altri. E in relazione vuol dire che incontrano e questo è il lavoro del giornalista, cioè il giornalista deve incontrare, deve incontrare le persone, le situazioni, le storie di vita, quelle di gioia e quelle talvolta faticose e dolorose perché già l'incontro è un dono, cioè il giornalista fa e svolge un servizio importante prima ancora di dare la notizia perché è nell'incontrare, nel portare umanità lì dove avviene qualcosa e poi questo diventa notizia condivisa e la notizia condivisa aiuta una comunità a partecipare, ecco, ma ci vuole la persona. Allora lo dicevo prima come battuta, prendendo spunto dal messaggio del Papa, abbiamo bisogno sempre del giornalista persona e quindi se posso vi difendo come giornalisti persone. Senta, ha annunciato anche la novena, insomma, della Madonna del Conforto, ovviamente in questo caso una, come dire, una festività tutta retina. Certo, una bella festività, per me è il secondo anno che posso viverla per intero e la penso come occasione bella anche per me di incontro con la gente. La gente che viene in pellegrinaggio, che viene a pregare, che viene a portare una preghiera di richiesta, di aiuto, di bisogno o di ringraziamento. Ma è un incontro, è una partecipazione di popolo che dice una religiosità profonda, dice anche una ricerca di spiritualità e ci chiede di accogliere una città, di accogliere una comunità perché possa sentirsi in chiesa, di casa, ma perché possa sentirsi di casa in città. E rimanendo sul tema, abbiamo sottolineato che tutti indistintamente siamo figli amati da Dio. Così ancora il Vescovo, a margine dell'incontro con i giornalisti, parlando dell'incontro precedente, svoltosi presso il seminario Vescovile di Arezzo che ha avuto al centro le storie dei figli che rivelano ai genitori la loro omosessualità. La riflessione è stata approfondita attorno al libro Genitori fortunati, vivere da credenti, il coming out dei figli. Durante l'incontro sono state ascoltate anche le testimonianze di alcune madri. È un tema educativo legato alla famiglia e al cammino dei credenti che vivono all'interno del loro nucleo familiare. Questa realtà, ha detto il Vescovo, è un cammino che è di tutti noi nel imparare che siamo tutti figli amati da Dio. A febbraio, ad Arezzo, torna l'operazione Buffo Buffo che ha come missione quella di salvare i rospi che nel periodo della migrazione rischiano di essere investiti dalle automobili. Abbiamo al telefono collegato Francesco Cortonesi, uno degli organizzatori. Buonasera Francesco, qual è l'obiettivo e come nasce questa iniziativa? Principalmente è incentrata nel fare in modo che avvenga la riproduzione primaverile, in modo che la popolazione sopravviva e riesca, se possibile, a essere in crescita. Lo scopo è quello di tutelare il più possibile il rospo buffo buffo nella migrazione. Come dicevo, ovviamente siamo vicino a delle zone umide, quindi è chiaro che ci impattiamo anche in altri animali che vivono in quelle zone e quindi inevitabilmente riusciamo comunque a salvare dalle strade, perché comunque il pericolo principale è il transito delle auto nei pressi delle zone umide e quindi che inevitabilmente purtroppo portano alla morte di un gran numero di questi animali. Quando partirà l'operazione Buffo Buffo? Allora, l'operazione è fissata come inizio, come data indicativa il 10 febbraio, però è una data indicativa perché le temperature in questo momento sono troppo basse perché la migrazione avvenga, quindi diciamo che noi aspettiamo un po' di vedere che cosa succederà con il meteo. Abbiamo fissato questa data perché in linea di massima, sono 12 anni che facciamo questa campagna, abbiamo un po' imparato a comprendere quando è il periodo in cui la migrazione tendenzialmente dovrebbe iniziare. Immagino che ci sia bisogno di volontari, come mettersi in contatto con voi? Noi chiediamo a chi vuole unirsi a noi, vuole dare una mano di inviare una mail a operazione buffo buffo chiocciola gmail.com in maniera che noi possiamo parlare con loro, viene fatto, verrà fatto un corso di aggiornamento per preparare i volontari perché ovviamente è comunque una campagna che richiede una certa preparazione e poi speriamo di avere dei volontari che possano aiutarci nel transito e nel monitoraggio soprattutto di queste zone in cui la migrazione avviene. Bene, grazie a Francesco Cortonesi. Cambiamo e voltiamo pagina, parliamo di un'iniziativa dell'Ordine delle Professioni Infermeristiche. Tu non sei cannabacciuolo, impara la manovra di Emlich. Questo è lo slogan del progetto presentato dal Presidente Provinciale dell'Ordine delle Professioni Infermeristiche Giovanni Grasso che vede la realizzazione di un breve spot pubblicitario per sensibilizzare la popolazione alla formazione delle manovre salvavita per rimuovere le ostruzioni delle vie aeree nel bambino e nell'adulto. La speranza è quella di realizzare questo spot con lo chef di fama internazionale, Cannavacciuolo, e diminuire i casi di ostruzione delle vie aeree. E rimanendo a parlare del noto chef, a proposito di lui, stasera Masterchef, che è trasmesso su Now e Sky, sbarca in Val di Chiana, protagonista neanche a dirlo, le bistecche chianine, i cuochi esaminati dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli faranno quindi tappa a Foiano e Castiglione Fiorentino. La trasmissione è stata però registrata l'estate scorsa. E andiamo allo sport, è con l'Arezzo il calcio, si avvicina la partita contro Lentella, resta chiusa però la curva sud per i tifosi a Maranto nella prossima partita casalinga a causa del petardo lanciato ad Ancona che stordì un fotografo, quindi l'ammenda e la punizione per i tifosi. Domani la riunione del gruppo operativo di sicurezza in vista della partita di domenica prossima con calcio d'inizio alle 18.30 contro la Virtus Entella. Per il momento gli abbonati del settore chiuso al pubblico, ovvero la curva Minghelli, per ordine del giudice sportivo non potranno acquistare nemmeno i tagliandi di altri settori dello stadio comunale. Si tratta di circa 1.101 tifosi che sono in possesso della tessera stagionale per la curva sud. Non esiste una norma specifica che però vieta l'accesso degli abbonati in un'altra parte dello stadio. Però poi il giudice sportivo potrebbe multare ulteriormente la società, come ha già fatto in occasione a settembre di Juve Stabia a Bellino con la curva San Marco chiusa. La società girò l'ostacolo regalando 752 biglietti di tribuna ai sostenitori della curva. Risultato? Due mesi di inibizione commutati in 6.000 euro di ammenda per il legale rappresentante Filippo Polcine, 10.000 euro di ammenda per la società. Quindi effettivamente anche questa soluzione è decisamente pericolosa. Parlando invece di calcio mercato, perché oggi si chiudeva la possibilità di cedere o acquistare giocatori, doppia operazione di mercato per l'Arezzo in queste ultime ore. In Amaranto arriva l'attaccante Joseph Ecuban dal Monterosi, mentre Mattia Iori va a Lumezzane in prestito oneroso fino al termine della stagione. Ecuban classe 2000 ganese in questa stagione ha all'attivo 15 presenze con la formazione laziale, mentre le sue presenze complessive in Serie C sono 95 con 6 gol all'attivo. arriva all'Arezzo con un contratto fino a fine campionato con opzioni a favore dell'Arezzo per la stagione successiva. Sempre rimanendo nell'ambito del mercato, era già notizia di ieri sera, il Libor Kozak non è più un giocatore dell'Arezzo, per i centravanti cieco ci sono state soltanto sette partite, sette presenze in campionato di cui due da titolare e una in Coppa Italia. di ieri è la firma sulla risoluzione del contratto che gli consentirà di trovare un'altra squadra nelle prossime settimane. Complessivamente, a parte questo ultimo arrivo di cui abbiamo parlato, non ci sono state importanti novità in questi movimenti invernali. a disposizione di mister indiani rimangono quindi il massimo dei giocatori consentiti in Lega Pro e quindi sono 24 i calciatori della Rosa Amaranto. Questa era l'ultima notizia per quello che riguarda lo sport. Vi ricordo che questa sera è per tutti giovedì, a partire dalle ore 21.45, partirà una nuova trasmissione sulla sicurezza, ospite in studio Alessandro Rossi, titolare di Ombra Sicurezza. È davvero tutto per questa sera, grazie per averci seguito, a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV.